E' un po' silenzio, azione Dai ragazzi, riproponiamoci che iniziamo a girare lo spot Allora ragazzi, mi sembra di essere stato chiaro Dobbiamo rivolgere gli auguri a tutti coloro che lavorano la vigilia di Natale Motore! Partito! Canto! Azione! Auguri di Buon Natale a tutte le forze dell'ordine! Auguri di Buon Natale a tutti gli artisti! E poi? Ai medici! Ma anche agli infermieri! E poi? Ai corpi! Ma anche i camerieri! E poi? Ai nazisti! Anche i magazzinieri! E poi? Ai vigili del fuoco! Ma non sono i pompieri? Non pare che sono capito niente! Dai c'è niente! Dai c'è niente! Pompini a risuono! Ma certo! Un saluto a tutti i volontari che durante le vacanze di Natale aiutano le persone che hanno bisogno! Auguri di Buon Natale a tutti! Auguri di Buon Natale a un buon 2016 a tutti! Auguri a tutti i bambini e ai ragazzi del mondo! Ma proprio a tutti però! Auguri di Buon Natale a tutti! Hurra! Auguri di Buon Natale a tutti! Auguri di Buon Natale a tutti!